A Molini di Prelà si festeggia con gioia l'arrivo del Natale con l'ultimo mercatino dell'anno. Sì, facciamo l'ultimo mercatino dell'anno e per l'occasione riproponiamo di nuovo le caldaroste che abbiamo avuto un grande successo l'ultima domenica di ottobre. Questa volta abbiamo anche il vin brulee fatto dalla Proloco di Vila Talla e poi abbiamo anche le frittelle di mele che le sta facendo la Proloco di Molini di Prelà. Una bella giornata di festa e un modo per poterci fare gli auguri con chi viene a visitarci e anche con coloro i quali vengono abitualmente con i propri banchetti a riempire delle domeniche durante tutto l'anno. I prodotti sono del posto? Questa è una ragione anche in più per spingere l'economia locale? Sì, effettivamente i prodotti sono del posto, è un modo comunale per cercare di spingere nel migliore dei modi, di promuovere il nostro territorio, promuovere i nostri prodotti soprattutto in un momento di sofferenza economica come quella di adesso. C'è musica e spazio anche per i bimbi? Sì, c'è la musica, col karaoke, musica, ognuno può andare lì e cantare ciò che vuole e poi nella piazza antistante la chiesa oltre alla presentazione del libro c'è i suoni gonfiabili, il trucco a bimbi in maniera tale che anche può venire una famiglia tranquillamente con i propri bambini che il divertimento è garantito per tutti quanti. È la festa di tutta la Valprino? Sì, questa qua è la festa di tutta la Valprino, non solo come di prela perché qua c'è gente anche di Dolcedo e proprio in funzione dell'unione appena da fatta è proprio una festa di tutta la Valprino e quando dico della Valprino intendo due territori, da Dolcedo, Pantasina, Villa Tala. E qui con noi l'editore di Imperia TV, il cavaliere Francesco Zunino, noi sappiamo quanto lei tenga il territorio della provincia di Imperia, ma non solo. Anche lei ha voluto essere qui presente a questa manifestazione perché sa gli sforzi che si fanno per promuovere questi eventi. Intanto prima di tutto voglio fare gli auguri a mio fratello minore, Riccio Luigi, ti voglio bene, ti faccio tanti auguri sinceri. Questi te li mando dal cuore, dall'introterra dove io questi terreni li ho sempre amati, la gente che vive qua, le ho sempre dato un occhio di riguardo per i sacrifici, per gli sforzi che fanno. E in ogni paese che io vado, ieri ero ad Apriccale, il signor Mario ha detto Francesco aiutaci, ci stanno ammazzando, stanno rovinando l'agricoltura, il piccolo introterra, perché ci sono gente di oltre 80 anni che ancora adesso va a lavorare con la zappa. Ma lavorare con la zappa non è una cosa semplice, lavorare con la zappa è una fatica in mondo. Io manderei tutti i politici intanto a provare la zappa, così capirebbero cosa vuol dire lavorare. Quindi mi dà fastidio e dolore vedere come è maltrattato il nostro introterra e che loro non fanno altro che parlare. Ma adesso siamo vicino a Natale, non voglio inferire sulla gente che non c'è, e che io vorrei proprio che ci fosse questa gente per poter dialogare e spiegarci a loro che i posti di lavoro si possano creare creando le aziende, non danneggiando le aziende come state facendo voi. Noi di Imperia TV siamo danneggiati dallo Stato, ma che pensano di dove vogliono andare. Aumentano le tasse spaventosamente il negozio e il commerciante che avete sotto casa, o che paga le tasse o che paga l'affitto, ma non ve ne rendete conto quello che state facendo, perché nessuno vi crede più. Quindi è Natale, voglio essere buono, non voglio inferire su loro che non ci sono. Poi signori, se diamo un'occhiata a Roma, lo scandalo totale, destra e sinistra. A tanti auguri anche a voi. E voglio dire che adesso prima abbiamo difeso quelli dell'Agnesi, adesso c'è quelli della provincia. Quelli della provincia hanno dei grossi problemi, anche loro, come tutte le aziende. Se il nostro Presidente Sapa mi vuole chiedere qualcosa, le spiego come ha funzionato la politica in questa provincia. Auguri anche a te, Presidente. Auguri a tutti e alla gente che soffre soprattutto. Arrivederci.